Presidente, Ministra Casellati, in quest'Aula abbiamo appena ascoltato le parole della senatrice Segre sul pericolo per la nostra democrazia che deriva da questo disegno di legge, che vuole introdurre non come in altri Paesi un sistema presidenziale che qui ipocritamente viene chiamato premierato, ma un sistema plebiscitario che concentra nelle mani di una sola persona tutti i poteri sulle relazioni internazionali, sulla sicurezza, sulla difesa, sull'economia, sulla moneta, sulle questioni giudiziarie, un'enorme concentrazione senza contrappesi perché al tempo stesso vengono neutralizzate le funzioni di rappresentanza e di controllo sia del Parlamento sia del Presidente della Repubblica. Noi qui denunciamo un vulnus che rompe la nostra Costituzione nel suo cuore vitale che è il Parlamento. All'indomani del fascismo che aveva colpito a morte il Parlamento, riducendolo come venne spudoratamente preconizzato in un bivacco di manipoli, i nostri padri costituenti vollero, articolo per articolo, parola per parola, scrivere la nostra Costituzione repubblicana nella consapevolezza e nel monito che la democrazia e la libertà appena riconquistate sarebbero dovute essere difese dal rischio sempre incombente dell'autoritarismo e del totalitarismo. Lo strumento della difesa e della vitalità della democrazia è il Parlamento che è il luogo dove si esercita la sovranità popolare come scandisce la nostra carta che è il corpo vivo e sacro della rappresentanza, della società che si organizza democraticamente, che è chiamata attraverso i partiti e le forze politiche ad una partecipazione collettiva, vera, permanente, non solo ogni cinque anni nel giorno delle votazioni. Una partecipazione per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, come dice l'articolo 49. E qui sta il punto, Presidente, colleghi, voi spostate l'indirizzo della politica nazionale dai cittadini che lo esercitano attraverso il Parlamento ad una sola persona. Questa è la risposta più sbagliata alla crisi della democrazia, quella che più contraddice la nostra Costituzione. La risposta necessaria invece sta già nella Costituzione, che va attuata, non scardinata. Sta nel rafforzamento dell'iniziativa popolare attraverso il Parlamento, nel rafforzamento delle prerogative parlamentari che invece in questi anni sono state sempre più svilite a favore dell'esecutivo, con un uso abnorme della decretazione d'urgenza, della fiducia, dei decreti presidenziali, dei maxi emendamento, con il rafforzamento dei poteri del Capo del Governo nell'integrazione europea, con un monocameralismo di fatto con il taglio dei parlamentari. Anni di rafforzamento dell'esecutivo e di svuotamento del Parlamento che sono stati fallimentari. E c'è un motivo. Una democrazia come un corpo biologico può vivere solo in un equilibrio costante tra i vari centri nevralgici, ma c'è un organo vitale che è il Parlamento, che è l'unico a poter assicurare un impianto pluralista, imperniato sullo Stato di diritto, l'unica forma di governo che possa garantire la convivenza civile, la dialettica. Se viene spento il Parlamento, allora viene spenta la democrazia. Ha avuto la meglio in questi trent'anni, una vulgata a senso unico, spinta da interessi corposi, economici e finanziari, secondo cui la crisi delle nostre democrazie è dovuta alla debolezza degli esecutivi, all'impossibilità di decidere e di comandare, direbbe qualcuno. Per cui sono state introdotte leggi elettorali sempre più maggioritarie. I partiti sono diventati i comitati elettorali al servizio del leader di turno. È stata introdotta l'elezione diretta dei presidenti di regione, i governatori, l'elezione diretta dei sindaci. Si è spinto ossessivamente sulla personalizzazione e sulla disintermediazione, svuotando di senso quello che era e dovrebbe essere la Costituzione materiale della nostra Repubblica, la partecipazione, le forme della politica organizzata, la capacità di costruire società con la politica. Tutto questo si è rotto. È falso che la crisi della democrazia sia dovuta al nostro sistema istituzionale. È una crisi dovuta a politiche sbagliate. E quella stessa vulgata che ossessivamente chiede di dare più forza agli esecutivi è la stessa che vuole più austerità, meno diritti, meno Stato sociale. E la crisi delle nostre democrazie è innanzitutto la questione sociale. Sta nelle intollerabili diseguaglianze, nella impossibilità per milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita, di conquistare quel poco tanto di felicità che è la promessa e il patto alla base delle nostre democrazie. E voi, signori del governo Meloni, a questo siete disinteressati. A voi non interessa dare risposte ai problemi, alle istanze sociali. E infatti avete cancellato gli strumenti contro la povertà, avete tagliato la sanità pubblica, non avete mantenuto quello che dicevate in campagna elettorale sulle pensioni minime, sulla creazione di posti di lavoro e sull'onda di questi trent'anni spingete il nostro sistema ad un punto di non ritorno. Voi dite dateci pieni poteri, ma è un modo per non dare risposte, per ingannare, per aggirare il tema vero che è la questione sociale. E quando sarà stato scardinato il sistema parlamentare, quando sarà imposto un simulacro di democrazia plebiscitaria e personalistica, allora ci sarà il rischio concretissimo che venga attaccata anche la prima parte della Costituzione. L'articolo 2 che afferma il principio di non discriminazione, l'articolo 3 che dice che tutte le donne e tutti gli uomini sono uguali, il rischio che saltino le garanzie per le minoranze. Voi esponete il nostro Paese per la prima volta dal 1945 al rischio di una torsione autoritaria ad un continuo abuso del potere, perché il plebiscitarismo porta con sé una deriva illiberale. Non è un caso che la quasi totalità dei costituzionalisti di ogni orientamento reputi questo disegno di legge inaccettabile e inemendabile, perché contrasta con i principi alla base della nostra democrazia rappresentativa. Laddove esistono i sistemi presidenziali prevedono contrappesi molto forti al potere del capo del governo. Innanzitutto, come negli Stati Uniti o in Francia, maggioranze parlamentari autonome nella loro formazione, è dunque imprevedibile spesso di colore politico opposto rispetto al presidente. Nella vostra proposta invece avviene il contrario. Voi inserite in Costituzione una previsione già predeterminata di una maggioranza parlamentare vincolata indissolubilmente al mandato presidenziale, eletta contestualmente e che decade contestualmente. Questo toglie ogni soggettività, ogni autonomia al Parlamento e questo toglie al Presidente della Repubblica il suo principale potere in raccordo con la volontà del Parlamento, ovvero la decisione sull'eventuale scioglimento delle Camere. Così facendo viene rovesciato il nostro impianto costituzionale e ad aggravare tutto questo c'è la previsione di una legge elettorale con un premio di maggioranza abnorme conferito a chi, pur arrivando prima, potrebbe essere assoluta minoranza nel Paese, con una distorsione pazzesca, eversiva della volontà popolare. I parlamentari non sarebbero più eletti direttamente, come prescrivono gli articoli 56 e 58, ma solo in virtù dell'elezione del Presidente. Non avrebbero più libera volontà politica, perché incatenati al mandato del leader. In questo modo viene abbattuto l'istituto previsto dall'articolo 67 della nostra carta, che dice che ogni parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Un nucleo fondamentale in ogni democrazia, scritto e concepito dai nostri costituenti per garantire la libertà di espressione dei parlamentari e l'autonomia da ogni condizionamento. Presidente, mi chiedo se ci sia ancora qualche liberale tra i banchi della maggioranza e se sì perché stia in colpevole silenzio di fronte a questa regressione così pericolosa. Perché no, non si può tacere. E concludo, Presidente, se dovesse passare questa vostra legge, una sola persona eletta da una minoranza deterrebbe tutto il potere, controllerebbe un Parlamento senza più funzioni, se non quella di autosciogliersi. Una sola persona eleggerebbe il Presidente della Repubblica, i membri della Corte Costituzionale, i membri del CSM e delle autorità indipendenti, tutti organismi a partire dal Presidente della Repubblica, oggi di garanzia, ma domani evidentemente non più. Un potere senza più contrappesi e quindi un potere autoritario, perché nella forma c'è già la sostanza delle cose. Già oggi avete imposto nell'informazione e in Rai un clima pesante di continua intimidazione. E questa legge, frettolosa, sgangherata, smodata, che concentra tutto il potere nelle mani di uno solo, è una minaccia reale per lo stare insieme di una comunità, di un popolo. E quando ci sarà il referendum faremo appello ad ogni cittadino. Un appello non di parte, perché non c'è in gioco il destino di una parte, non c'è il gioco in destino di un partito, c'è in gioco il destino di tutti noi, delle nuove generazioni, di una democrazia che non sia ostaggio di un capo, ma continui ad essere viva vitale. Grazie.